A Bano Terme, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, l'atto è del 4 agosto e prevede contestualmente la nomina del già commissario prefittizio Pasquale Versa a commissario straordinario, con i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco fino all'insediamento degli organi ordinari con le prossime elezioni, presumibilmente nel maggio 2017.